Come portafogli di questa settimana, HeliconTex è DC Small Wallet. È la versione un po' più grande di quello che avevamo visto settimana scorsa. Beh, oltre ad essere un portafogli, è proprio un portacarte ordinatissimo. È un portabanconote a tutti gli effetti. Ha anche questo taschino speciale con lo spiccettino per il carrello, per la macchinetta del caffè. Magari volete scommettere con i colleghi, è la nuova penna di Spiderco. Beh, a me torna utile perché sono tra quelli che dimentica sempre la monetina. Devo scassinare con il multiuso i carrelli. Non si fa, ragazzi, portatevi la monetina. È un portacarte grande, di dimensioni comode. Però è piacevole da tenere in tasca, è piacevole da tenere in borsa perché è sottile. E alla fine i portafogli danno più fastidio se sono troppo spessi che non se sono così. No, avete sempre delle tasche, degli EDC, dei marsupi dove ficcare un portafoglio sottile. È dotato questo modello di protezione AirFeed. Quindi le carte che sono all'interno del vostro portafogli non possono essere lette. Questo è utile per evitare furti di identità, furti di dati e mal che vada anche di soldini. Vedete come da un lato tutti gli scomparti sono generosi ma dotati di una, chiamiamo, una limitazione di profondità. Dall'altro lato invece ci stanno bene le carte. Lo scomparto finisce qui ma l'ultimo, beh l'ultimo accoglie una banconota da 50 euro piegata. Quindi possiamo metterci proprio i soldini, ecco così, e le nipotine saranno sempre più felici di vedervi ora che è Natale. Troviamo la solita cinghietta in Ipalon qui nell'angolino. È il loghino di HeliconTex che è stampato in silicone proprio come questo che tiene qui fermo il soldino. Sono portafogli tostissimi disponibili in un sacco di colori come ci ha abituati Helicon. Tutti su Backpacko.it come ormai vi ho abituati io.